Dopo lo stop legato al Covid ed edizioni caratterizzate da restrizioni, è tornata la Fiera Franca a Cittadella, una fiera storica che richiama nella città murata più di 100.000 persone. 428esima edizione, quindi si parla di una delle fiere più antiche del Veneto e d'Italia. Siamo dopo il 2019, quindi dopo il Covid, siamo finalmente ritornati alla normalità, quindi una fiera come i cittadellesi e la gente che abita nell'Alta Padovana è abituata a vedere. Alle mie spalle li vedete in esposizione alcuni vitellini alla Fiera Franca di Cittadella, un'attrazione per grandi e piccoli. Cittadella si entra nel circuito pieno delle fiere che partono da quella di Bassano e si finisce a Santa Lucia di Piave, quando le malghe scaricavano portavano giù gli animali in pianura. Riti antichi tornano in piazza come la marcatura del bestiame venduto. Cosa sta facendo? Segnando il bestiame. È proprio il metodo classico? È classico di una volta. Come funziona? Come funziona? Si vende e poi si segna il bestiame che è venduto. E questo è il gesso? E questo è un gesso particolare, è un colore praticamente. Un mercato e una festa all'interno e all'esterno delle mura di Cittadella organizzato dal Comune. Una fiera che è stata controllata, è stata gestita affinché possa essere vissuta nella maniera più tranquilla possibile. Quindi niente di particolare, qualche sanzione sicuramente a chi ha sporcato in giro, magari facendo i propri bisogni in centro storico, però ci stanno perché è il compito della polizia locale. Noi siamo stati da subito chiari. La fiera è un momento di divertimento ma ci deve comportare in maniera corretta. La fiera si concluderà questa sera con i fuochi d'artificio, un momento che attira più di 10.000 persone da tutta la provincia. La fiera lascia sempre tanto. Nel senso che la fiera, chi l'ha vissuta, chi è cittadalezza da sempre, parte e lascia, rinnova i ricordi. Grazie a tutti.